Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata ucraina. Il Cardinal Kajewski è andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato, gli sta spendendo tempo lì aiutando nella zona di Odessa e di vicinanza. E mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le salvagetà, le mostrosità, i cadaveri torturati che trovano. Uniamoci a questo popolo così novele e martire.